Siamo iniziati al portino di casa E' anche in questo video Sa un'accelerata così Era doveva lucidare che accelera la bottina Non lo senti neanche accettare Eeeh E' la vecchia qua Grazie a tutti. non è questo quello che fosse il 36 è una troia quella madonna però almeno ho visto mia cugina sì Luise sì o forse sì e qui c'è cazzo no, qui c'è cazzo c'è pazzo non c'è pazzo di livello buona sorpresa penso la soluzione ma direi vero la città è collegata come porto con il treno in quattro arriva anche non un angelo ma certo come io ho preso il posto quello lì lungo, forte con Mercedes, con C2 e ha, e ha, e ha il charlie ha detto no, no, no ho deciso di farlo io avrebbe stegnato dietro scusa l'unica vettura bella che hai l'ha distrutta anche i mani no, vabbè, ma sai che questo è il motore mamma? sì quanto? qui è il cammino? sì ma allora guarda, guarda guarda guarda, guarda 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 c'è direi che ci riusciano tutto il quadriere ma? sì l'ho mai visto? le voce esterne Ah qui c'è la carpanetta mi sembra Se non sbaglio La carpanetta? Forresta la carpanetta Sì, non so se la sportiva c'è in quei camponi Zosso La simulazione Romani che non è entrato Perché? E il pancherino va forte Madonna Si, si, quello auto Sì, fin da quelli nostri Della Polona Dicono che non sono male Però comunque il comune Dicono che sono Euro 5 Sono Euro 3 C'è abbiamo preso degli Euro 3 E dicevano che sono Euro 5 No, c'è scritto chiaramente Anche sulla lista Della TPA l'Italia Mi sono a comprare Ma sì, dai Passifichiamo Perché lì quali c'è Sì, la gente non è abbiamo preso di calore Perché non vanno male Sì, fermate Ma non ci sono Ma non ci sono Perché non si vede Vuoi vedere neanche un'acqua Ma dai, però ci sta Ma dai, però ci sta Che fegni E poi c'è Ma se vedi Che è cosa Ma è il mano Eccolo Eccolo La rottame Quelle era L'interurbano E' adesso Sì Sì, guarda, direi il popolo è malto. Sì. Ma il popolo è vero. E la macchina, chiede. Oh, come se stessi, la un'inzea, un'inzea. Sì. Ma io ho pegato quelli lucidi che c'erano su a me. Bastardo! Non so che spino, no? Sì, perché sono lucidi? Perché quando piove. Mi lavora un po' spino di giro. Sì, cosa faccio? Quando c'è il clima? Sì. Mi usi le nostre vetture, eh? L'amore, ci fa rinforzato, ci fa rinforzato proprio più di spino iniziano. Bravo, direi che simuliano. Esatto. Anche sui, sui città, con le mani da 30 metri, un po'? Sì. Da pure? Ma non si apre, 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 porco Dio! Ma se la rego di santa? Eh. Qui su città si ha un patto con l'aria, che viene tutto addosso. Esatto. E' un benessere che non va a morire. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. No, ok, ma per caso vuoi bisogno? Così? No, ma ci c'è un po' rossa che viene. Tu cosa hai messo di altro che questa? Con il camion, quella è un sogno dentro il nostro. Vedi che c'era ancora? Non dovrebbe mica arrivare quella lì? C'è quel tipo di vettura lì? Probabilmente sì. Spero di sì. Guarda. C'è un po' rossa. Sì, rispetto ai nostri. Ah sì, è vero che... Ah, è quello di chi era. Infatti ho detto, ma ma tu è una fabbarona che ho fatto un bucho? Perché lì ha... Ah, sono qui, lì. Ti faccio vedere, allora. Ah, non ho la tua storia. Mi so quello che tu. Ti ho notato in mezzo. Ah, ma anche il passaggio per nuovo. Sì. Ah, grazie. Ah, grazie. Ah, grazie. Ah, grazie. Grazie. Ah, 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 grazie. Grazie. Ah, grazie. Ah, grazie. Ah, grazie. Questa! Questa roba! Mi ha fatto tanto la roba, adesso è la roba! Sì! Lo faccio! Ahhhh! Perfetto! 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 Ti chiamo Petro? Ti chiamo Petro? Oh no! Oh no! Oh no! Mi chieda qua dentro! No, col settimo! E dai, col settimo ci sta! Il... Il... No, no! Dopo vedi che... Uuuuuh! Quando accendendo le lave... Il... Il... Sì! Se te lo fate non avrete interrompato? Eh! Lo so! Lo so! Bologna infatti ha proprio fatto! Ehm! Mi sa che in Alta... Ma i prossimi lotti... Potrebbero essere! No, no! Ma se hai detto che lei era settimo della fine? Beh... A Brescia! Noi ancora mi sa che ne fa acquisteremo! No, no, no! Anche gli urgo quei noi andavamo l'urgo con verità! E' conto! Ehm! Magari per i due preci un urgo da quei... Qua... Da... dai moviti che sono scoperto no no mi sentivo e ancora niente ora ho tirato un pugno con il vento e si è chiuso e guarda si è che è così ma sai che anche ho fatto il giro su quel sito che aveva la blanca del motore stancata ma più rumore poi arriva una colada di calore si ora ti curiosito puoi vedere come era il motore o no ho aperto un po' di più e dopo un crancho si è spaccato tutto no, questa volta ah si, il cicletto si, io ho la foto lo vedo ogni volta che prendo la mia corriera una trasquadda un po' mi mancherà il 7a in questa età